Era andò a trovare la sua ragazza che era ristretta agli arresti domiciliari fino a quando è venuta alle mani con la condomina, una lite che inizia nel condominio di via Maiella per terminare nel pronto soccorso del locale Nosocomio. Per quella accesa discussione un 39enne di Raiano ditti le sue iniziali e stato rinviato a giudizio dal giudice per udienze preliminari del tribunale di Sulmona Daniele Sodani per il reato di lesione personale. La prima udienza del processo si svolgerà a marzo. L'uomo quella notte tra il 10 e l'11 ottobre 2018 si trovava in casa della quarantenne di Sulmona e di Gile su iniziali all'epoca ristretta agli arresti domiciliari quando una condomina del palazzo si sarebbe lamentata del rumore che proveniva dal loro appartamento. Da lì è nata una discussione presto degenerata anche dopo l'arrivo degli agenti di polizia. Nel corso della lite i due si sarebbero picchiati a vicenda finendo entrambi al pronto soccorso ma in ospedale ad avere la peggio è stato un poliziotto intervenuto per sedare la zuffa. L'agente è stato picchiaro dal giovane e per il reato di resistenza pubblico ufficiale il 39enne di Raiano patteggiò sei mesi di reclusione. Si è aperto poi l'altro procedimento scaturito dalla denuncia presentata dalla condomina che nel corso di quella lite rimediò delle lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. Lesioni che per la procura della Repubblica di Sulmona sarebbero aggravate dal nesso teleologico cioè la strumentalità di un reato rispetto a un altro. La condomina davanti al GUP ha dichiarato di voler rimettere la querela, un particolare che potrebbe rivelarsi decisivo nel corso del dibattimento per il proscioglimento dell'imputato fermo restando la derubricazione del reato, una linea difensiva che adotterà l'avvocato Angelo Pace che difende il 39enne. Per il momento il giudice per le udienze preliminari non è entrato nel merito e rinviato a giudizio il giovane che per quella lite furibonda dovrà comparire davanti al giudice il prossimo marzo.